Sto registrando, vedi c'è scritto RECDAME. Ok ragazzi ci siamo, va bene, no perché qua abbiamo anche tribuna centrale con moglie relative a quello che può concerne la sicurezza nella guida. Iniziamo a scorrere il circuito della rapidità. Intanto vedete a scorrere, si vede un cazzo qua, c'ha un bel da dire Nico ma Dio, non si vede un cazzo. Grazie. Vediamo se può aggiungere sempre solitare il Cannevazzi, seguito come abbiamo detto da CIR, subito dopo il Kiki e poi ho la mano tremolante. No, riesco a capire che cazzo mi sta succedendo. Abbiamo il protagonista delle riprese della corsa, il cameraman. Chiediamo un primo commento, come pensa che siano venute le riprese. Sì, se vuoi rispondere qualche altra volta. Come forza. Oggi mi piacerebbe dire che nel momento in cui l'anno scorso non è stato un grandissimo successo. Non devi dire bello, brutto, eccetera. Direi che quest'anno la qualità si è perfezionata veramente bene, quindi sono ottimista per il filmato che ho fatto quest'anno. Secondo me quest'anno vennerò quello che non ho preso l'anno scorso, grandi elogi. Perfetto, perfetto. Previsti grandi elogi per il cameraman. Perfetto, perfetto. E noi andiamo avanti.